Recuperare la socialità nell'alta vallata del Tordino attraverso una serie di eventi che mettono al centro l'uomo e questa l'idea che poi si è trasformata in un cartellone estivo del comune di Cortino. La nostra intenzione era proprio quella dopo il terremoto, ormai scomenti da quelli che erano i grandi silenzi che hanno riguardato i nostri borghi, abbiamo deciso io insieme a una rete territoriale che si è poi naturalmente creata perché ho riscontrato tante adesioni volontarie da parte di abitanti del territorio anche non residenti ed è stata proprio la nostra intenzione quella di riportare al centro delle attenzioni della popolazione e anche di tutto il territorio terramano quella che è la montagna terramana e in particolare l'alta valla del Tordino. Attraverso quali iniziative lo farete? Lo faremo attraverso delle iniziative che rimettono al centro i borghi rurali, la vita dei borghi rurali, le esperienze del passato raccontate dalle persone anche anziane in maniera tale da preservare quelle che sono le memorie e proprio esperienziali delle persone che lì hanno vissuto, hanno formato le loro famiglie e hanno consolidato le loro attività. I primi importanti appuntamenti di questo cartellone ci saranno domani e dopodomani, ovvero 9 e 10 luglio. Come dicevi bene partiamo domani con la presentazione del sito di Borghi e Sentieri della Laga che si terrà in località Prati Pantanelle di Casa Greca per seguire poi nel pomeriggio a Fonte Palumbo con la frazione Si racconta. Nella giornata di domenica invece si spostiamo su quello che è il versante della fiumata, arriviamo a Padula, una interessantissima passeggiata partirà da Casa Greca che è praticamente una frazione sopra Cortino per attraversare tutto il versante ed arrivare a Padula.